Giovanni Basile, presidente di Fondazione Teatro, come mai riproporre anche in questi tristi tempi di spending review il teatro? Il teatro è una cosa importantissima secondo me, sia a livello culturale che pure a livello di spettacolo. Ovviamente in un periodo di crisi noi cerchiamo anche di adeguarci, quindi favoriamo come Fondazione proprio, diamo la possibilità a qualsiasi persona di venire, anche realizzando il costo. Poi ovviamente ci saranno dei prezzi diversi per studenti, è ridotto quindi si paga la metà per gli ultra 65 anni e per altre categorie. Poi quest'anno abbiamo fatto anche delle convenzioni, anche con gli ordini professionali. Perché a San Severino quest'anno oltre al classico appuntamento teatrale ci sono degli appuntamenti con jazz, crossover e blues? Allora abbiamo fatto una cosa molto semplice, proprio per non, dovevamo anche cambiare qualcosa. Cioè è vero che ci sta una rassegna teatrale, però noi vogliamo fare in modo che la gente si abitui anche alla musica, a una determinata musica e quindi abbiamo fatto questo connubio tra teatro e musica. Che la musica sia il cross, il jazz e il blues è una musica più brillosa, quindi abituiamo piano piano i nostri utenti ad avere prevede. La novità però sta in questo, che in effetti è vero che alla rassegna del teatro ci sono otto spettacoli, ma è pur vero che i nostri abbonati hanno gratuitamente gli altri sei spettacoli del jazz e del blues. E cosa offre in soldoni il cartellone contenitore di Fondazione Teatro quest'anno? In che senso? Che cosa? Quali sono le novità? Perché puoi preferire degli artisti televisivi piuttosto che classicamente teatrali? In effetti li abbiamo preferiti perché ce li abbiamo in parte solo noi, perché noi abbiamo fatto degli accordi preventivi con il Diana di Napoli e con il San Nazare di Napoli. Siccome qua la maggior parte dei teatri si sono standardizzati su alcuni nomi, noi siccome siamo autonomi e non partecipiamo a nessun consorzio, abbiamo deciso noi di scegliere gli artisti. Ovviamente ne abbiamo scelti quelli che hanno una presenza televisiva e sono dei bravi artisti, per esempio come La Guaccero, come Miconi e Serena Utieri, che è la prima, hai capito? Quindi ovviamente a questi anche dei famosi registi come Gino Landi. Per quanto riguarda invece i laboratori con le scuole, che cosa bolle in pentola? Che progetti ci stanno? Ad aprile noi inizieremo un progetto nuovo con le scuole e lo faremo in collaborazione con Andrea Manzi e il regista De Cristoforo per avviare i ragazzi proprio al teatro, per abituarli. Perché se noi non iniziamo da piccoli, sta gente al teatro non verrà mai. Ovviamente al teatro, se tu lo sai perché lo frequenti moltissimo, vedi che il 90% sono tutti anziani o ultra sessantenni. Noi dobbiamo fare in modo che al teatro devono venire anche i giovani. Perciò quest'anno abbiamo deciso di fare insieme sia la rassegna che il blues, proprio per abituare anche i giovani a venire al teatro.